su spettacolo mania siamo con barbara ronchi e manfredi lucibello protagonista come irene e regista di non riattaccare benvenuti ciao allora cominciamo da barbara che è tutto il film è praticamente su di te sul tuo viso sulla tua voce la tua emotività e anche il modo di trasmetterlo no prima ti chiedevo fuori è stato tosto tu mai detto ma non troppo no non è stato non è stato così tosto perché in realtà è stata una lavorazione molto molto bella del film cioè non ho ricordi non ho ricordi duri non so come dire ci siamo molto preparati prima c'è stata una bellissima preparazione è stato tutto per cui poi quando è stata la lavorazione certo gli orari ecco magari quelli erano stati più più duri perché ovviamente girando per cinque settimane dalle sei di pomeriggio alle sei di mattina era tutto stravolto nella vita nella vita di ognuno di noi c'era come se per cinque settimane c'è stato solo questo film perché poi di mattina dormire perché serviva il buio la notte giustamente per girare e dunque irene è questa donna che si mette in macchina di notte da sola all'improvvisa per andare a salvare il suo ex e non raccontiamo più di tanto però chiedo entrambi no io l'ho appena visto il film e mi è sembrato di guardare una vera e propria odissea no quella di rene nel senso che appunto in questa sua avventura verso la casa del suo ex per salvarlo incontra di tutto c'è un dramma in piena regola ci sono c'è il buio c'è la solitudine il dolore c'è rimpiace e persino il mostro della notte non sveliamo tanto ecco siete d'accordo con questa definizione mi è sembrato proprio un dramma epico anche nella costituzione insomma diciamo nel contenuti beh sì diciamo che mi piace chiamarlo thriller appunto e siamo su quei toni siamo una notte anche in piena pandemia dove non si potrebbe viaggiare dove le persone ci fanno paura perché insomma ci ricordiamo ai tempi se incontravamo qualcuno andavamo dall'altro lato della strada per paura no e quindi ecco il mostro forse avviene anche da lì da quelle notti terribili che abbiamo passato e quindi si in questa notte incredibile perché la notte incredibile una persona invece normale cerca di affrontare questa questa appunto solitudine questo viaggio che in fondo anche un viaggio dentro di sé che poi è un dramma nel dramma perché in questo appunto questo clima di lockdown di buio e di solitudine c'è il dramma appunto della corsa di rene e si diceva di pietro sentiamo più o meno solo la voce che è quella di claudio santa maria anche se poi insomma ci sarà una facciata e che cosa hanno in comune irene pietro ancora che li lega così tanto hanno subito un trauma un dramma ed è il dolore secondo te che li lega che li rende ancora così lui chiama lei e lei corre da lui eppure si sono lasciati io credo che siano i ricordi io credo che siano i ricordi i ricordi belli quelli quello che lega che lega che lega questi due perché dei ricordi brutti non ne parlano ne vogliono parlare poi a un certo punto arriverà il momento in cui in cui lo affronteranno però se lui chiama lei è perché perché con lei ha vissuto forse momenti più intensi della sua vita c'è un prima un dopo a no anche dopo alcune storie d'amore c'è un primo un dopo cioè io ma sono anche nelle amicizie nelle storie d'amore sono delle persone che proprio hanno fermato un momento della tua vita importante e ci sono persone che chiamerei anche se non le sento da vent'anni improvvisamente mi piacerebbe perché sono stati testimoni di un momento di me che mi piacerebbe anche ricordare quindi probabilmente lui chiama lei anche per questo motivo perché è stata una sua la sua grande storia d'amore ma anche perché perché il ricordo di lei la lo riportava in un momento felice che forse sarebbe voluto essere l'ultimo momento da ricordare anche questo lo chiede entrambi il thriller ovviamente l'ansia che sale per tutto il film perché poi lei ha tutto contro dicevamo per questo pensavo all'odissea però crea anche un legame emotivo molto forte con la protagonista e siamo tutti preoccupati quasi più per lei diciamo che per lui che è dall'altra parte come siete riusciti a creare questa empatia che sicuramente troverà anche il pubblico nei confronti di Irene io credo che che appunto questa sia una un viaggio straordinario fatto però da una persona uguale a noi che ha i nostri difetti che non è perfetta che commette degli errori che presa anche da questa appunto notte straordinaria incredibile fa qualcosa di sbagliato sbaglia e questi siamo un po tutti noi non è non è sicuramente una un supereroe e questo fa sì che forse iniziamo a volerli bene fin da subito perché la razione la razionalità la razionalità non ti direbbe mai di prendere la macchina e partire soprattutto vista la situazione le pasticche l'uomo accanto eccetera eccetera però è forse insomma è per quello che ci piace Irene perché non vede l'ora di partire non vede l'ora in realtà di mettersi in viaggio questo mi piace approfondiamolo tre secondi no io penso che lei che lei veramente non non vede l'ora di avere un motivo per per rimettersi per ritornare alla vita proprio non vede l'ora quella telefonata lì a cui non vorrebbe rispondere a cui cioè in realtà perché ha paura che si che quella telefonata la rimetta alla vita perché è comoda in un momento di in cui si è assopita no si sta lasciando andare cioè si sta sta prendendo delle pasticche sta cercando di non pensare a niente è ferma però in realtà non vede l'ora perché poi quello quello che fa è proprio quello di una persona che che era in crisi d'astinenza dalla vita e la ritrova in questo modo molto sì tramite lei tra l'altro fa tutto da sola grazie mille grazie a entrambi